Buonasera ai telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Book Crossing. Vedete proprio al mio fianco il libro di cui parleremo oggi. Oggi viaggeremo con la mente ai noi, non fisicamente, ma parleremo di Uomini oltre la frontiera. Il libro di Gianluca Marano, che ho l'immenso piacere di avere qui con me, che è mentor in internazionalizzazione, nonché autore di questo libro, edito da Fausto Lupetti, editore. Grazie Gianluca per essere con noi. Grazie a voi per avermi invitato, sono veramente felice di essere qui oggi. Ha un compito, un bel compito in questo periodo in cui ai noi i viaggi sono limitati, di farci viaggiare attraverso i racconti presenti in questo libro. Un libro che parla di internazionalizzazione, in particolare verso tre direttrici, che sono appunto gli Emirati Arabi e Dubai in particolare, la Cina, ma anche la vicina Svizzera. Partiamo proprio dalla definizione di internazionalizzazione, perché non è poi così scontato che si sappia che cosa si deve intendere per internazionalizzazione, che non è delocalizzare, è così? Esatto, sì sì, è proprio, voglio sfatare questo mito del valutare come sinonimi internazionalizzare e delocalizzare un'azienda. Nel senso che molto spesso mi è capitato negli anni scorsi durante il mio percorso, di incrociare anche persone di spessore, diciamo anche politici o anche economisti che sono coinvolti nel processo di internazionalizzazione di aziende, che confondevano proprio i due concetti, ma anche gente comune che dice, ah ecco, ma tu porti le aziende fuori dall'Italia, depauperi, aiuti diciamo altri stati a depauperare l'Italia. In realtà mi fa proprio piacere poter definire i due concetti, e cioè delocalizzare vuol dire in effetti sì, prendere un'azienda con tutto il suo management, le sedi fisiche e i suoi dipendenti e trasferirli all'estero, quindi in quel caso sì vuol dire togliere dall'Italia un pezzo di azienda o comunque in totale tutta l'azienda. Invece internazionalizzare, che è un po' il tema che mi ha colto sin dagli albori della mia carriera, un po' come una folgorazione, è invece direi esattamente il contrario, e cioè aiutare aziende che comunque stiano in Italia, quindi supportare il made in Italy aiutando queste aziende a esportare il proprio prodotto, cioè a trovare dei mercati magari più attrattivi o comunque con più liquidità e con una situazione economica e politica migliore rispetto all'Italia, ma allargherei anche oggi all'Europa, dove il prodotto made in Italy lo conoscono, perché è comunque uno dei brand più famosi al mondo e dove se lo possano permettere. Chiudo la mia risposta dicendo che comunque internazionalizzare, per internazionalizzare non basta avere dei clienti all'estero o delle sedi all'estero. L'internazionalizzazione è proprio una forma di cultura aziendale, è proprio una spinta, un qualche cosa che emotivamente nasce dalla pancia, dal cuore dell'imprenditore e poi grazie a questa spinta l'imprenditore inizia a fare i calcoli su quanto può costare, su quali possano essere le strade per andare a sondare nuovi mercati e da lì poi arriva il momento in cui poi ci si rivolge a persone come me, che magari questa strada l'hanno percorsa. Che aiutano a traghettare. Anche perché, qua chiudo veramente, la mia azienda che è nata in Italia e poi si è stabilita in altri paesi nel mondo, poi magari avremo modo di parlarne parlando del libro, è un'azienda che ha seguito esattamente questo percorso. Quindi io potrei definirmi, un po' usando una metafora popolare, sono il macellaio che ha assaggiato la sua carne per primo e poi la può offrire alla sua clientela o il panettiere che fa la stessa cosa. Ecco, quindi diciamo che per primo io posso dire che ho sentito dentro questa spinta forte a guardare fuori dai confini nazionali e a sperimentare tutto quello che oggi ho raccontato nel mio libro. Infatti un libro che è proprio ricco di vissuto concreto, di storie in primis quella appunto dell'autore, ma anche delle realtà, delle imprese che sono state aiutate anche ad andare oltre la frontiera. Vorrei adesso chiedere rispetto a entrare in uno di questi paesi, ovvero gli Emirati Arabi Uniti. Ecco, quali sono le peculiarità di questo mercato? E lei afferma che esiste proprio un made in UAE che può essere definito nella ricerca dell'eccellenza, ma anche una buona dose di creatività. Ce lo puoi illustrare meglio? Ma allora, qui a me piacerebbe fare proprio una metafora matematica o comunque un qualche cosa che riconduca a una serie di elementi. In realtà sono tre gli elementi. L'eccellenza che è il punto al quale si mira, al quale tutti quanti noi miriamo, no? E se stiamo parlando di aziende, di made in Italy, sappiamo quanto questa eccellenza ci sia riconosciuta su una serie di settori in tutto il mondo. Ma l'eccellenza che cos'è? E qui c'è un po' il gioco dei fattori. Per come l'ho vista io e per come credo magari possiamo riflettere un pochino tutti, è un mix tra creatività ed efficienza. Ora, se sposiamo questa equazione, no? Perché è un'equazione tutto sommato, e andiamo a ricondurre questo tema su delle specifiche realtà territoriali, possiamo dirci tra di noi italiani che comunque sulla creatività probabilmente non ci batte nessuno al mondo. Direi che è abbastanza conclamato, ma... Anche se ci sono dei paesi emergenti che stanno iniziando, magari avendo imparato da noi negli anni scorsi, grazie a delocalizzazioni di aziende, magari di brand importanti in Italia, hanno imparato anche loro e sono diventati anche un po' creativi. Però sul fatto che la creatività italiana sia comunque al top nel ranking mondiale, questo probabilmente ce lo possiamo dire. Magari siamo un po' carenti sull'efficienza e anche questo da italiani dobbiamo ammetterlo. Quindi se noi facciamo uno sforzo, immaginiamo quali, anzi non dobbiamo fare neanche tanto uno sforzo per immaginare quali possano essere le aree o comunque le nazioni più efficienti al mondo, ci viene in mente di sicuro la Germania, ci viene in mente la Svizzera, questo marchietto rosso crociato indica parecchia efficienza, rigore, penso che sia una cosa anche riconosciuta, un po' come la creatività italiana. Quindi negli Emirati Arabi oggi il primo ministro, che è un po' il reggente, cosa scrive nel suo libro My Vision? Cita le repubbliche marinari italiane come esempio di creatività e come queste piccole cittadine anticamente siano riuscite a trasportare merci o comunque a salire agli onori della cronaca, nonostante fossero dei piccoli paesini, nonché citare anche altri esempi di creatività italiana, ma quando parla di rigore e di eccellenza dal punto di vista proprio di affidabilità, non può far altro che parlare di Germania e Svizzera. Ecco perché per quello che mi riguarda, ne ho parlato anche parecchio nel libro, la mia equazione eccellenza uguale creatività più rigore ed efficienza vuol dire avere di sicuro una sede in Italia, di sicuro una sede in Svizzera e poi il punto dove queste due cose le stanno unendo e stanno tendendo all'eccellenza. Questo è proprio il viaggio, la triangolazione perfetta, lo vediamo anche un po' alle nostre spalle. Ecco facciamo magari anche qualche esempio di racconto concreto di imprenditori italiani che sono riusciti ad esportare il proprio Made in Italy proprio negli Emirati. Allora probabilmente farà un po' sorridere ma uno degli imprenditori in realtà sono una famiglia, sono ragazzi simpaticissimi e uno potrebbe immaginare, non so, l'orologio oppure il modello, che ne so, della roba tecnologica più bella che esista al mondo oppure chissà un nuovo brevetto sulle biotecnologie e invece è un ferro da stiro. Un bel ferro da stiro. È un bel ferro da stiro. E beh, questa anche dal punto di vista narrativo è sicuramente una bella storia da raccontare. È una bella storia da raccontare perché stiamo parlando comunque di un'azienda che io personalmente ritengo davvero un'eccellenza in Italia perché è un'azienda che è situata nelle marche, che ha un indotto magari non proprio di ferri da stiro ma più di pelletteria, di scarpe, sappiamo, conosciamo tanti tanti marchi che sono presenti in quell'area, ma a quest'azienda invece, grazie al padre che ha brevettato parecchie cose che noi oggi utilizziamo quotidianamente, neanche io personalmente prima di conoscere loro non sapevo che le avesse brevettate il padre, hanno brevettato questo ferro da stiro meraviglioso con un design italiano, ecco che torniamo un po' alla creatività italiana, sembra il design quello, il pin in farina della situazione, colorato, serigrafato, quindi personalizzabile, con una forma, molto molto spaziale, diciamo, quindi è un oggetto davvero bello, davvero di culto. Perché interessa così tanto negli Emirati Arabi? Perché da un ferro da stiro, che ha in questo caso anche delle caratteristiche particolarmente attrattive dal punto di vista tecnico, quindi non bisogna mettere le sale nell'acqua, non ha diciamo un pulsante di on off ma basta alzarlo e abbassarlo e si accende e si spegne, quindi anche delle caratteristiche particolari, ma è talmente bello che noi lo abbiamo inserito in quel mercato anche come oggetto da vendere nel duty free dell'aeroporto di Dubai, da portare a casa come gift di ritorno per esempio da Dubai, magari con la palmettina o con il cammello o con i simboli di Dubai, quindi anche lì la creatività italiana è stata anche la nostra nel dire al cliente, caro cliente, sì vendilo come ferro da stiro perché comunque il suo utilizzo è quello di stirare, però mettiamolo in un luogo dove passa tanta gente e lo riporta a casa sua come pensiero da Dubai, nonostante ci sia il marchetto made in Italy. Questo è un esempio, un'altra azienda che abbiamo accompagnato in quell'area, un'azienda che fa tessuti tecnologici, qua stiamo parlando un po' più di nuove tecnologie e ha avuto un grande successo anche perché è una tecnologia ancora oggi molto innovativa nel senso che nei tessuti vengono inseriti dei circuiti non rigidi, quindi sono tessuti lavabili e stirabili che possono dialogare con dei devices tipo telefoni, iPad, computer a distanza e quindi hanno delle applicazioni in vari settori, dall'automotive, all'arredamento, abbiamo parlato anche col settore sanitario, ma anche col settore del per esempio il duty free dove abbiamo dei contatti di lavoro molto molto interessanti e lì può essere usato nelle giacchette banalmente degli impiegati che possono entrare e uscire dai varchi perché il duty free è all'interno di un aeroporto e quindi è un mondo un pochino particolare. A sé stante, un microcoso. Esatto, sono due esempi, ce ne sarebbero davvero tantissimi. Non riveliamo troppo perché poi l'invito è alla lettura, quindi qui diamo qualche piccolo spunto per poi approfondirlo ulteriormente. Mi fermo ancora una volta sugli Emirati, poi passiamo nel nostro viaggio anche verso la Cina. Expo Dubai 2020, sappiamo appunto che è stata rinviata. Che tipo di prospettive ci possono essere, opportunità per le imprese che volessero ancora farne parte? Allora, Expo, come abbiamo visto a Milano, è un evento che coinvolge i paesi, quindi ci sarà un'esposizione dove 121-125 paesi parteciperanno per mettere in mostra quello che loro ritengono essere le cose, le eccellenze di ogni singolo paese, no? Tornando. Noi, sempre parlando di creatività italiana, abbiamo pensato di creare degli eventi fuori Expo, come un po' il fuorisalone di Milano. Siamo italiani, sappiamo quanto il fuorisalone, purtroppo in questo periodo si parla di fuorisaloni virtuali, ma questo è un altro tema, quindi parteciperemo a Expo, nel senso che nel nostro padiglione, nel padiglione diciamo italiano, noi abbiamo le relazioni che ci consentiranno di accompagnare aziende, eccetera. Però vogliamo che Expo diventi un'occasione per mostrare al mondo quanto l'italiano, al di là del padiglione dove può far vedere le sue eccellenze classiche, cioè quelle che tutti già ci riconoscono, ci piacerebbe invece accompagnare aziende fuori Expo per creare fuori Expo la sorpresa. E sappiamo quanto la sorpresa, in occasioni dove ci sono dei numeri molto importanti di persone, quanto la sorpresa, un qualcosa che non ti aspetti, ovviamente di positivo, possa poi portare degli obiettivi molto più importanti magari di quelli che ci si aspettava. Fare proprio la differenza e lo vediamo e quindi speriamo di poterlo raccontare in positivo. Sì, ecco, solo come nota di cronaca ricordo che Expo è stato spostato di un anno e si terrà dal primo di ottobre 2021 al 31 di marzo 2022. Per cui abbiamo ancora un po' di tempo nella speranza che anche la situazione dell'emergenza possa rientrare. Proseguiamo appunto con il nostro viaggio verso la Cina. La via della seta, sono stati siglati anche degli accordi importanti tra l'Italia e la Cina. Nel libro troviamo anche delle testimonianze, ci sono anche diverse recensioni anche del libro proprio da personalità del mondo di Dubai, quindi emiratino, cinese e anche svizzero. Ebbene, rispetto alla Cina, ad oggi le principali opportunità che il colosso cinese può garantire per l'Italia? Allora, qui rispetto a quando ho scritto il libro, sono passati già un paio d'anni da quando ho iniziato a scriverlo e quindi qualcosina è cambiata. Ora, le opportunità che ci sono in Cina possiamo pensare che non siano diversissime dal punto di vista del mercato cinese, del grande mercato cinese rispetto a un paio di anni fa. Però sono cambiati alcuni scenari sullo scacchiere geopolitico. E mi piace segnalare questo avvenimento di qualche mese fa, e cioè questo accordo storico che c'è stato tra gli Emirati Arabi e Israele, che agli occhi magari di un osservatore poco attento o comunque non coinvolto direttamente in queste dinamiche, in quelle aree, potrebbero sembrare che non abbiano troppo a che fare con il discorso Cina. In realtà è interessante notare quanto gli Stati Uniti, che sono storici alleati di Israele, abbiano da sempre tenuto la loro zampa in quell'area, cioè diciamo proprio nell'area dove sta Israele, ma anche attorno hanno provato sempre ad avere una certa egemonia, cosa che hanno fatto anche per esempio sulla penisola araba, compresi gli Emirati Arabi. In realtà la Cina spinge molto verso quell'area perché è più vicina anche solo territorialmente alla Cina piuttosto che agli Stati Uniti, ma anche perché è il corridoio che gli serve per arrivare in Africa, dove sappiamo benissimo la Cina ormai ha il suo secondo continente. Il corridoio che poi è quello del One Belt One Road, che sarebbe la nuova via della seta di Xi Jinping, passa proprio da quell'area medio orientale. Ora, questo che cosa ci porta a pensare? Che con i nuovi accordi tra Emirati Arabi e Israele e il fatto che la Cina stia pian piano e silenziosamente colonizzando gli Emirati Arabi, perché anche qui ci sarebbe da parlare del porto di Dubai, del porto di Abu Dhabi, dove i colossi cinesi hanno già messo le loro pedine da, non da tantissimo, da un paio di anni. Ecco che questo accordo tra Israele ed Emirati Arabi porta ad allontanare leggermente gli Emirati Arabi dagli Stati Uniti come egemonia e ad avvicinarli alla Cina. Cina che sta facendo parecchi investimenti che, come dappertutto nel mondo, sono sempre i benvenuti. Perciò rispondo adesso alla domanda quali sono le opportunità? Io conosco questo mercato perché lo frequento da parecchi anni, ormai da un decennio, al mercato medio orientale. E posso dirle che mai, come in questo periodo che è partito prima dell'era Covid, si sente proprio questo nuovo vento cinese che sta arrivando anche in Medio Oriente. Quindi le opportunità, ancora una volta dico, nascono dal hub degli Emirati Arabi, perché comunque gli Emirati Arabi sono in una posizione super strategica. Sono a sei ore di volo dall'Europa, dall'Africa e dall'estremo Oriente. Ho detto sei, poi possono essere sette, dipende dove si va. Però i continenti sono a sei ore e gli Emirati Arabi sono in una posizione strategica fantastica. Già hanno una delle prime tre compagnie al mondo che è Emirates, che si gioca al primo e secondo posto ogni anno con altre di quell'area comunque, Singapore piuttosto che altre. Hanno uno dei porti, che è il porto di Jabal Ali, che di sicuro è uno dei più importanti in Medio Oriente e di conseguenza uno dei più importanti al mondo. Hanno dei governanti illuminati che in questi anni non hanno fatto altro che accrescere le potenzialità di questo piccolo paese e quindi io ritengo, dicendolo pur in questo periodo di Covid, dove i viaggi sappiamo quanto siano limitati e siano vincolati a una serie di problematiche come le quarantene, eccetera. Io sono prontissimo e lo sto facendo a investire in quell'area perché ancora di più sarà l'area strategica dove sia a livello politico che a livello economico e commerciale andranno gli investimenti per i prossimi decenni. Quindi con una rete, anche quindi la possibilità poi di arrivare con più agio anche nel mercato cinese, appunto si citavano prima gli accordi di Abramo che lo stesso Donald Trump ha insomma fatto siglare, tant'è che qualcuno ha fatto anche pensare che potesse, possa ambire ad un Nobel per la pace per quanto fatto, insomma poi c'è anche da considerare tutto il resto ma andiamo oltre, siamo in un periodo di campagna elettorale, sicuramente uno scacchiere geopolitico che in un'ottica di internazionalizzazione deve essere considerato, abbiamo ancora pochi minuti ma ci tenevo a parlare comunque anche della vicina Svizzera che è stata anche soggetto comunque di notizie recenti in merito ad esempio al referendum rispetto ai frontalieri. sappiamo che appunto è stato poi deciso per il no al blocco dei frontalieri sebbene il canton Ticino abbia avuto invece una posizione un pochino diversa. Allora come si fa a comunque avere degli scambi commerciali Italia-Svizzera anche andando oltre alcuni pregiudizi e tensioni anche che si sono un po' create nell'ultimo periodo? Io ritengo da sempre perché è un po' il mio posto di adozione alla Svizzera e quindi ritengo da sempre che gli svizzeri al di là di provincialismi e di nazionalismi più o meno latenti sia comunque un paese in generale anche se lo si dice di persone che sono illuminate, in questo caso posso dire, mi prendo questa licenza, sia un paese illuminato perché da sempre è un po' la storia della Svizzera, la conosciamo, la storia della sua indipendenza sia dal punto di vista militare ma anche dal punto di vista politico dura ormai da più di cinque secoli insomma. Anzi ricordo un certo Niccolò Machiavelli che nel 1512 andò a fare un viaggio mandato dai suoi fiorentini che lo usavano come consigliere politico per capire un attimo sullo scacchiere franco-spagnolo e diciamo della parte più nord italiana che aria tirasse e lui passò per per la Svizzera rimase totalmente abbagliato da questo stato in mezzo alle montagne, strutturato già in maniera federalista, parliamo di 500 anni fa, con un esercito di mercenari che veniva utilizzato da parecchi stati perché anche lì ai tempi già era riconosciuto per il rigore, per l'affidabilità eccetera. Quindi poi negli anni, nei secoli sono successe tante cose, però oggi il popolo svizzero salvo quelle parti magari di confine dove si possono creare in maniera spontanea e anche abbastanza naturale delle tensioni, lo viviamo anche dalla parte italiana, che ci siano delle tensioni tra le minoranze di lingua tedesca in Alto Adige o quelle di lingua francese in Val d'Aosta. Insomma diciamo che sono delle dinamiche abbastanza normali nelle parti di confine, ma poi il paese in generale non vive della parte di confine e basta. Quindi il referendum di domenica scorsa ce ne ha dato proprio un esempio. Quindi paese illuminato perché credo che pur avendo ceduto su alcune cose negli ultimi anni all'avanzata di richiesta di informazioni da parte dell'Europa, prima degli Stati Uniti e poi dell'Europa, ma abbia mantenuto dei tratti caratteristici che la rendono molto interessante come hub europeo per fare business. Prima parlavamo degli Emirati Arabi come hub internazionale. Io direi che la Svizzera è l'hub europeo perché ha delle infrastrutture di prima qualità, ha un sistema scolastico di prima qualità, un sistema bancario di prima qualità. Diciamo che anche la parte fiscale, qua vorrei pensare a una piccola lancia sul fatto che non è un paradiso fiscale, ma si pagano le tasse, le pagano tutti e ne pagano un pochino di meno rispetto a un paese come l'Italia, ma anche gli altri paesi. Dicevamo dei pregiudizi da amole parti, per cui anche sicuramente su questo tema. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta proprio terminando, però abbiamo ancora un minuto rispetto a quelle che possono essere le sfide che non dobbiamo mancare di cogliere verso il futuro e attraverso uno sguardo che tenda sempre anche verso oltre la nostra frontiera. Sono stato io il primo a credere in questa cosa e cioè a guardare oltre la frontiera, tant'è che poi addirittura mi sono inventato l'idea di fare un libro nelle lounge degli aeroporti tra un viaggio e l'altro, quindi la sfida secondo me è proprio quella di alzare la testa e guardare oltre quello che oggi ci propone la nostra quotidianità, se ancora non l'abbiamo fatto. E se già l'abbiamo fatto e quindi sentiamo nello stomaco quel sacro fuoco che ci muove per guardare oltre, guardiamo ancora oltre quello che già abbiamo fatto. Questo è... non so se ancora tempo per una piccola sorpresina per... Ti lascio nonostante, siamo un po' in zona Cesarini. Ok, allora faccio una piccola... intanto ringrazio per avermi invitato, sono davvero contento di poter parlare, sono stato contento di poter parlare del mio libro qua e visto che ho uno scrittore che mi piace particolarmente... E che viene citato anche... E che viene citato nel libro, che è il signor Conrad, nel suo libro La linea d'ombra, adesso non ho tempo di raccontarvi di che cosa parla, ma c'è una parte che mi ha sempre molto colpito e dalla quale ho tratto ispirazione, che adesso voglio leggere, sono tre righe, e che secondo me fa proprio capire, quando alziamo lo sguardo e guardiamo oltre, a che cosa dobbiamo pensare. La strada sarebbe stata lunga, tutte le strade che portano dove desidera il cuore sono lunghe, ma questa strada che l'occhio della mia mente vedeva su una carta, in modo professionale e con tutte le sue complicazioni e difficoltà, era però in un certo senso abbastanza semplice. Si è uomini di mare o non lo si è? E io non avevo dubbi di esserlo. E beh, è sicuramente forse uno dei modi migliori per lasciarci, insomma, verso questo mare, questi confini che superiamo, lo sappiamo, la letteratura riesce veramente a portarci verso altri mondi. Io vi ricordo, ringrazio nuovamente il nostro ospite Gianluca Marano per essere stato con noi, Uomini oltre la frontiera, di Fausto Lupetti, editore, e grazie ancora ai nostri telespettatori per averci seguito e buon proseguo di viaggio a questo punto. Grazie.